Musica Bentornatissimi a tutti Super Saiyan di tutti i pianeti Del mondo come state? Speriamo Tutto bene qui noi ci stiamo allenando Non abbiamo mai smesso non è vero che No qua io mi sto allenando Goku basta chiacchiere Buttati per dare quelle flessioni Ok ragazzi voi dovete lasciare un mi piace Per ogni flessione che abbiamo fatto quindi Un milione ehi stai facendo Stai parlando con Goku non parlare con Goku Ho finito la missione io la faccio Ma come di già? Eh si sono più forte di te Aspetta vediamo 176 ma quanto cavolo Eh si ciao Allora ci dobbiamo allenare Perché stanno facendo un sacco di tornei Ultimamente dobbiamo diventare fortissimi Il torneo di arti marziali E come tutti sappiamo Non vorrei No stavo per dire come tutti sappiamo Goku vinse sempre quindi Veseta vai più in là Guarda che Goku non ha vinto Neanche uno di torneo è sempre stato Oh sono arrivati gli alieni è arrivato il C18 E' arrivato Cell non l'ha mai finito Non ti sto ascoltando mi devo allenare Devo pompare questi bici E' brutto eh sentire certe cose Vieni 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 fuori sentiamo Vieni fuori Oh brutto maledetto Vieni qui Prendi questa Io sono il principe Tu sei il principe Delle cavolate Vieni qui Ti ho ridato in brandelli Ecco Ma ne ho distrutto Oh mio dio Questo c'è i capelli di Goku Terzo livello Oh mio dio Guarda come è veloce Io voglio diventare come quello Anche io Mio dio bisogna allenarsi Guarda quanto è forte Come si fa? Super Saiyan 3 No è bello Ma qua non 3 Secondo me 30 Cioè 3 Super Saiyan 3 No Vecetta Cosa? Sei tornato normale Non sei più Super Saiyan Non sei più Super Saiyan Ma ero Super Saiyan prima Ah 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 Non sei più Super Saiyan Non ho diventato io Ah come ho fatto a diventare Super Saiyan? Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so neanche Non sei più Super Saiyan Non ho capito così Così Ah 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 Tra si faceva così Come facevi a caricarti Voglio Caricarmi Anch'io Con la X Aaaaaah Oh Oh che cavo È possibile Non è possibile Dai andiamo un pochettino in giro per la mappa Io sto facendo l'agilità Devo Arrivare a 200 di agilità Vediamo io cosa devo fare Devo fare Dobbiamo prendere qua Guarda vieni Oh aspetta aspetta arrivo 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 e dobbiamo prenderli pauli sono importanti non mi frega arrivi ai pauli hai paura pensi di ora la rigenerazione se tu mi metti in fin di vita divento più forte lo sai che cosa si e non picchia io sono più forte massacrato la vita ok allora appena c'è il torneo io direi di entrare che ti faccio vedere io sono diventato un bandito bella faccia sei diventato un cattivo infatti vedete cattivo guarda io sono innocente è il primo sei diventato sei ricordato normale non sei più super saiyan però io tra non molto divento ultraistinto ma ti hanno detto nei commenti ultraistinto quale no si ma l'hanno detto il tristoro ricordi non lo ricordi non lo ricordato se lo sbaglio il tristinto è quello tipo rosso no è bianco è bianco no qual è god dai lasciamo dai lascia perdere ditelo nei commenti di nuovo diciamo come hai fatto dimmi come hai fatto ti prego voglio diventare super saiyan sono il falso super saiyan vediamo vai vai una mossa vai allora vuoi vedere vai ora divento super saiyan voglio diventare anch'io guarda questo c'è i pugni di fuoco no vabbè quindi il fuoco cosa sono ultra godistinto ma che cavolo è allora finisco la missione e dopo voglio entrare al torneo è ok ok poi ci sfidiamo si si sfidiamo ti distruggerò il bene vince sempre allora guarda per fortuna vegeta ha scoperto come sbloccare le cose il principi di fegna il principi di fegna ok comprando queste cose diventiamo più forti o adesso si ora si però costano tantissimo ho speso tutti i miei soldi vegeta mamma mia guarda quanto salgo più otto sì ho finito la missione ok ok vediamo pesetta serif qui ciao rif ma rif è un po inutile ma come inutile dai non glielo dire che rif è inutile come trema tutto trema tutto vediamo dai ma io non ce l'ho sbloccato sono talmente forte che riesco a fare le pressioni in aria guarda buffa non ce l'ho c'ho il kaiken per cento forza vieni fuori goku in realtà quello che non ti ho detto che questo è il kaiken per cento quello che faccio io a premi i capelli diventano gialli perché io ho i capelli già ma non è giusto questo invece il super saian tu non sei su no mi sa che hai sbagliato qualcosa che sono no è questo mi cambiano i capelli da gialli a nero ho finito la missione signor vegeta io devo andare nella zona di allenamento ci vediamo dopo ciao no i capelli più rossi non è cambiato molto guarda ho i capelli più rossi oh che puzza pesetta dai continuiamo a allenarci fra 25 secondi ci sarà il torneo prossimo torneo prossimo torneo sei tu quello si sono io non riesco a muovermi oh no oh no ok oh no 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 oh no vieni qui solo pugni solo pugni solo pugni oh oh mio dio ma che cavolo è successo eh ma c'è uno che è ultra istinto bellavactera buona fortuna io continuo ad allenarmi C'è spaccato in due quello Oh mio dio Forse avevi ragione Dobbiamo allenarsi ancora tantissimo Dobbiamo diventare un po' più forti Forza Vezeta bisogna aiutare i buoni Perché qui ci sono dei super cattivi Sicuramente ci sarà Majibuo Ma che cavolo me ne frega dei buoni e dei cattivi Io voglio andare a cercare le ceste Andiamo a cercare queste Principes è la casa del genio Qua c'è una cesta bellissima Lasciami subito Lasciami subito con la cesta Chi è stato una mosca Sei stato tu lo so io Guarda Guarda qua Ti sblocca degli allenamenti extra Che c'è qua Janko C'è Janko Il nostro amico Gli si vedono gli occhi Possiamo volare Vezeta Abbiamo avuto la super velocità Guarda Come fai Come fai Ecco il control Col control Vieni qui Dove sei? Che bello Sono qua Dallo scimmione Dallo scimmione? Sì C'è un boss Possiamo prendere i coin qua No ma tu non hai idea di quante cose bellissime ci sono Sei dallo scimmione quindi? Sì ero dallo scimmione adesso non più E dove sei? Sto andando in giro Eh vado in giro Sto prendendo i coin Imparo Sei forse quello là? Non lo so mi vedi? Sei là forse Sì 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 sono io Vieni qua se hai il coraggio No col cavolo Hai paura? Vieni qui Vezeta Hai forse paura di me? Hai forse paura di me Vezeta? Oh questo ti fa diventare più forte Non ignorarmi Vezeta dove sei? Non significa che ti ignoro È ovvio Io sono il principe Nel sogno Sì tu sei il principe Nel stoccavolo Ma la faccia è tutto gay? Ah non eri tu No che hai ucciso Mi ha devastato Mi ha devastato Maledetto Ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto In un prossimo video diventeremo dei super saiyan Quindi non mancate da me che andare tutto Ciao Ciao